Salute a tutti e benenni da questa prima puntata del ciclo 9 e benenni da questa trasmissione. Salute a tutti e benenni da questa prima puntata del ciclo 9 e benenni da questa prima puntata del ciclo 9. Analizzando la Sardegna di oggi con la sua risorsa e dando oggi a chiedere qualcosa di conto e che vuole riconoscere la sua passione e l'impegno di questa società. Oggi vorrei cominciare a trattare un argomento complesso ma di interesse per il progresso dell'umanità. E' un'esistenza. S'annugolato in queste puntate di Noesis e Filosofia in Sardegna abbiamo affrontato problematiche di ordine filosofico. E' un'esistenza. E' un'esistenza. E' un'esistenza una cosa che contiene a parte del regime di arte e a parte della sua risuosia. E' un'esistenza. E' un'esistenza. E' un'esistenza meno che vuole riconoscere la sua realtà e il mondo che riguarda alle altre cose. e in qualche maniera finché sia più pratico. A parte dei fidelli che questa definizione è data dal dizionario e dalla enciclopedia quando facciamo la scienza, facciamo un gruppo di disciplina fondato da superare esperienze, osservazione sui calcoli o chi ha da progetti, da natura e che impreano l'impasto formalizzato. Questa è una definizione formale di scienza, dunque ha una definizione specifica. E' chiaro che quando facciamo la scienza, lo possiamo impreare questo termine in senso in senso che la scienza può essere considerata ogni forma di conoscenza, finché la ideologia, che non è una scienza sperimentale, può essere considerata una forma di conoscenza. Dunque, che sia l'ambito di esistere della sabidoria umana, potrebbe essere considerata una scienza. Ma noi abbiamo bisogno di tornare a vivere su chi è una scienza che si è sviluppata in corso del secolo, e che è stato un progresso scientifico, questa problematica, questa questione dei fondamenti che hanno caratterizzato proprio questa stagione di umanità. Partiamo da matematica. La matematica è una materia di ostica, finché a spiegare gli studenti. come se è una matematica, come se è una matematica di Antonello Venditti, notte prima degli esami. La matematica non sarà mai il mio mestiere. non è una matematica, non è una matematica, non è una matematica. ed è una matematica. E' una matematica. E' una matematica. E' una matematica. di questo sistema numerale, è un sistema numerale di base decimale, mentre, seppruso manco, in sudduamiza e inanti decimale, sono babilonesi hanno sviluppato un sistema di numerazione a base sessagesimale. Questo è un sistema di numerazione di sessagesimale. E' un sistema di numerazione di sessagesimale. Un sistema di numerazione di sessagesimale. che il babilonese ha avuto questa aritmetica e questa geometria e il bianco può risolvere cose pratiche. In ambas queste zone si pratica già avuto questa meghina, questa malattia è stata considerata come un'ossigenza della presenza insagarena del spirito al malo. Più che un'ossigenza, questa meghina può essere considerata in questo periodo una pratica. Dunque, possiamo sapere che sia qualcosa di questa pratica meica, di come si nasce da finire la meghina come la scienza in qualche maniera. Tornando invece a questa matematica, questa scienza è una affrontata. Abbiamo sapere che storicamente si sviluppa dei gusti di studi, di matematica e di fisica quando questa scienza si emancipano dalla filosofia e che il canale deve essere autonoma conforme alla filosofia proprio. Si sannugolato in questa puntata di filosofia, abbiamo lasciato l'accento proprio su questo aspetto filosofico. Abbiamo chiesto di sviluppare questa calcicosa in maniera profunda proprio boiere l'aspetto che abbiamo affrontato in questa puntata di cui ci siamo precedenti. in questo caso è una filosofia greca, in Sionia, fino all'ombra di Aristotele. matematica e filosofia, come in Tapponao, viviano in simbiosi, viviano a Baris e dunca vivendo una unione istrinta intre queste due disciplinazioni. Su Deorema di Talette, secondo il sogale, un angolo che si agatta da entro di un meso Chilcu, come in italiano si narra del semicerchio, è un angolo retto. Pare resi adistare il primo Deorema di geometria, come appunto di Talette, a essere dimostrato in maniera deduttiva. La deduzione è il procedimento che è andata da universale a subarticolare, l'induzione invece è il procedimento contrario che è andata da subarticolare a universale. Il teorema di Talette è il primo teorema di geometria a essere dimostrato in maniera deduttiva. Su filosofo Platone, non possiamo fare gran manco di mentovare finché sul filosofo, ci siamo in un periodo, siamo in un periodo embrionale che si nasce da questa disciplina. Su filosofo Platone, chi ha fatto iscrivere all'entrata dell'Accademia, chi non è matematico non può entrare, chi non è geometra non entra. Questo ha avuto a Vrasia iscritta in su frontone dell'Accademia Platonica. Lamentamos, Platone è il suo fondatore dell'Accademia, il filosofo delle idee, che ha dato importanza a questa matematica. La unione di matematica e filosofia è già cominciata in scuola pitagorica, alla molbidù, suburu, e sighidi con Platone. Il suo crede in s'esistenza partida del soggetto matematico, in s'autonomia assoluta del universo esso esso. Aristotele, in un basso della metafisica, della narrata. Poi un filosofo di oggi sono diventata la filosofia e la matematica, finché si è interessata solo in funzione di altre cose. oltre a questa matematica, un'altra disciplina che è collegata in qualche maniera, che si è collegata, che poi, finché al suo esperimento, che bisogna fare, deve essere fatto su una base matematica, questa è la cosmologia. Dunque si studia del universo, del cosmo, con il termine greco, che si è collegata al mondo, al universo. In Grecia nasce il soggetto del cosmo, che si è collegata al universo che si è collegata come un ordine immanente della natura. Il primo filosofo, in Grecia, è un cramato, il filosofo della affisica, questo spuro lo usiamo il bio, il talente, il simbolo, il simbolo, il simbolo. Il filosofo della affisica è un filosofo della natura. Il filosofo della natura è la sua origine, sa che il suo comienzo delle cose proprio in questi elementi della natura. In sui secoli e sese, Pitagora considera il suo numero come un'entità intelligibile e eterna che non fa da comprendere la natura profonda delle cose. Il suo centro del universo, il suo pitagorico, vive il suo voglio, e il suo inghidio, il suo voglio, vive la terra, la luna, la sole, sui pianeta e sui sistedosi. Sui corpoli celestesi non sono soggetti a corruzione, e dunque sono divinosi. Sui corpoli sono visti nel suo ghello, dunque sono, insomma, sui pianeta, sui sistedosi, e quasi a seguire. In sui secoli e chimbe, Democritu, un altro filosofo che chiamò il Bidu, ponia ad asatomos a parte prospettica della materia come ente principio. Sosatomos sono un'unità disindifferenziata da questo punto di annoto della qualità, come ente gusti del numero sintreoso, ma differente da questo punto di annoto geometrico pro vigura, ordine e posizione. La sua avvia da una visione materialistica e meccanizistica della realità. Prozoghi per toccare il suo penso di Aristotele, che Aristotele pure deve essere cramato in causa, ammettiamo scusa che questa è una visica sua, una visica che si vonda da su braso, senso comuno, che partiti da questa cinematica e sta a narrare da questa teoria di suo movimento, e sicuramente il suo movimento è caionato da una causa e costa da un'altra a Gallo e non si potete procedere a sinfinito, tocca da ammettere che esistiti uno primo motore che non si muovere. E sta a narrare deuso, questo primo motore è deuso, che da comincio al suo movimento da questa cosa con un atto di amore, pure a barrande prima. Da questa è una spiegazione fisica del suo movimento da parte di Aristotele. E' chiaro che questa è una teoria pseudo-scientifica, però intanto questo è un sforzo, questo è un obiettivo di cercare di dare una spiegazione a gusto. Da questa fisica l'amo sabbiere aristotelico tolemaica da essere smontata, da essere criticata da questa fisica moderna. A livello cosmologico, Aristotele narra da chi sa terra il frimma sul centro del universo, sa concezione del geocentrismo, sa concezione geocentrica, sa narra che sa terra este a su centro del universo, e chi su sol e su spianeta sa inghiriana intundu a sa terra. In pruso narra da chi su universo este finitu, serratu e non ammiti di boitu. Custa teoria da essere impreata prosecculoso, fin se saccando si scienze a chi naschete in etate moderna, comenta Ponao, non ponete in dibatta questa teoria. Chi non tenete uno fondamento scientifico-matematico, ma si fondata subra su senso comuno. Un altro aspetto a Bisumeo che este meta importante este ponere esa cento finza sa siscenzia in siscenzia durante su periodo de sedate de meso, de su medioevo, che in su immaginario comuno sedate de meso non ha dato un contributo umano a siscenzia, asiscenzia naschete in etate moderna, asiscenzia comenta la concepimo so, e chi si fondata sopra sa matematica, però in etate de meso non intame se si nelzete chi non esti stata un'etate incisiva in questo senso, poti mo so rintracciare, poti mo dobbiere, chi bisogni stato so personalità se chi ha sviluppato teoria sa che poi sono stata in qualche maniera confirmata in etate moderna, la asiscenzia moderna. In sedate de meso, prudel de preziso in su secolo e doi, chi si assisti a un interesse pro si studio de sa natura. Si scola de Chartres, fondata a sa gabbo de su secolo e de, che accolle de filosofo, so chi ultra saer interesse pro si studio, so literario, so prosa grammatica e sa logica, si occupa na vinsa sa de demas a de filosofia naturale. Sa natura este guncepida, comente forza chi si muove de, chi ordina da e da vida a su mundo. Sa natura este gramata forza universale, vigor universalis. Este considerada comente forza autonoma, este dunca spossibile il spiegare sa natura con sa natura. cuesta propria principia, se di andare in latino, con di un'espressata benedimpreata in etate moderna. Sa misturo de dottrinas a differente, se comente platonismo, epicurismo, istoizismo, dan origine a fraigoso, consettualese, che non sono né encraroso né omogeneoso, e che non ha una pronuncia valori scientifico e filosofico. Sa misturo de dottrinas a escraru, qui non dada una solididade a si sviluppo de si scienze. Da esa metade de su secolo e undichi, prosochi pertocca da si scienze naturale esa meghina, sa cultura medievale sta barrata prima a sopra de Gerberto de Aurillac. In questo periodo, su meigo Costantino Africano, va a conoscere a su mundo occidentale si scienze, esa meghina greca e araba, dunque, idimo finza, si sviluppo de esa meghina, insomma, scienze, una pratica, meta meta de importu. Ha traduitu Costantino Africano, operas a su meigo grecos, Ippocrate e Galeno. S'ingleso Adelardo di Bat, ha traduitu os elementos de Euclide e operas arabas ad aritmetica e astronomia. Comente si pode biere, beste una fermento, beste una, insomma, un clima culturale, med attento a queste questiones e scientificas. Ha descrittu un libro de visica, intitolado, Adelardo di Bat, Questiones Naturales. Insomma, su dito, restotto un programma, e un altro libro intitolado, De Eodem et Diverso. Altra personalidade di ammentare, este Bernardo Silvestre, autore di un poema intitolado, De Mundi Universitate Sive Megacosmus et Microcosmus. Una cosmogonia, esta a narrere un poema mitologico subras origine de su universo, ispirada a su Dimeo de Platone, Agustopera de Platone. In su secolo e doigli, su piscamo inglese, Roberto Grossatesta, mira das attividade sua ambito al vario, so desagonosquenzia, astronomia, meteorologia, ottica, fisica, disciplinas liberales. In sopra sua, si speculazione, subra su mundo naturale, ad un'importanzia manna. Su originalidade sua, consisti di, in su aere, affirmado un principio, che ha da essere difeso da Ruggero Bacone, e che ha da divenne su fondamento di esistenza moderna. Si studiu desa natura, deve essere fundado subra desa matematica. Il nostro esempio, ha un punto grae desubensu de Zedade de Meso. Poi te, sa matematizzazione desa natura, non ha rimoso che incominza a come in Zedade de Meso, pur usi questo principio bene di defensado, ma incominza da proprio con Galileo Galilei, quando si applica da su metodo matematico a sa visica. Già il Copernico ha da prospettato questo sistema, educa una semplificazione del fenomeno naturale, del cosmologico, in si specifico. Cioè, sta a narrare, com'ente è possibile, che le cose non si spiegano, non si spiegano, che questo sistema è articolato, complesso, in base a su principi di economia, che il campo deve spiegare queste cose, sul fenomeno del mondo, subra base matematica. questo è proprio un elemento del passaggio che crea per il sviluppo di scienza. educa la sua espressa da Roberto Grossatesta, la legge dell'economia, comenta poi un adug, che regola la sul fenomeno naturale, che ha da essere affermata a postisi da Francis Bacon e dai Galilei questo principi di economia. Ogni operazione di natura, che ha da essere in questa maniera più determinata, più ordinata, più scusa, possibile. Se non andare a moltiplicare la cosa, 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 è un principio di fondamento proprio, il sviluppo di scienza in senso scientifico, insomma, proprio, il sonuto del suo termine, vero, verdaredo. Prozuki per toccada su universo materiale, la visita di Grossatesta, è una teoria, che ha da essere tornata a proponere del suo franciscano o Santo Bonaventura, che considera la sala non un corpo, ma sa vromma del totusos corposo, sa lughe este sa vromma sostanziale de ogni corpu naturale. Su secolo e treghi, signa da un'ufrorire mannu de sa gilca e scientifica. S'aristotelico Alberto Magno insisti di subra s'importanza de sa gilca e sperimentale e dada in sopra sua un spazio ampio a sa trattazione de problemasa e scientificoso. Bisogna vincere al franciscano desi scola de Oxford che offerti su brusampo interesse a sa s'indagine e sperimentale a sa dibattasa e scientifica, a cominciare proprio da Roberto Grossatesta che potrebbe essere considerato come ente su ghiad dado comincio a suo naturalismo nou de Oxford. Su rappresentante Massimo desi sperimentalismo scientifico desi secolo e treghi, este su già i mentovadu Ruggero Bacone, i scolano de Grossatesta. Sa schilca sa pertocca nas astronomia, sa matematica, sa istoria naturale e sa grammatica greca e ebraica. In una desa opera al suo, asa intitolata Opus Maius, Bacone narra da chi nuda si pote conoscere in maniera adeguata sena sa esperienzia. Sipuro questo sperimentalismo de Bacone tenete un carattere magico e religioso proprio desos alchimistas e desos magoso, esso potrebbe essere considerato sempre quando uno che ha da precedito, si scienza moderna, supradedotto, su valore che ha dato a sa ghiilca sperimentale e a sa matematica. E' chiaro che tocca da a si emancipare da sa magia, questo li dimosso pur in etate moderna, quando bisogno rettaggio, bisogno galo, qualche cosa che risentita ancora da sa magia, questo in antesi deve essere su naturalismo, da rimosso desu umanesimo rinascimento, da esse finza su periodo magico, Girolamo Cardano, Fra Castoro, tutto questo al figura sa de Magoso, Fabrizio Mordente, in demodimoso mentre fare metas puro. Però questo è proprio uno disizzo della sara banda, tutto questo fenomeno, tutto questo a sa fromma sa de Magia, e andare proprio a si scienza verdadera. Intra questa personalità, se pruso di importo, di questo periodo, aumentiamo su finza sa Guglielmo de'Occam, nascito a sa gabbo desu secolo e treghi, con esso si solvede sa filosofia scolastica, educa se è l'ultimo esponente di questa chiestesi scolastica, la filosofia di scuola che si, si sviluppata in su corso di su medioevo de' Basso. si considera da Occam sa natura comente dominio desa conoscenza umana, se esperienza sessa da deare su carattere iniziatico e magico che ga lo conserva da imbacone, e diventa da un ugambu discumbata, un ugambu discumbata belta a totus osominesse. Sa Guglielmo de'Occam pone salbasesse prosiscenzia moderna. Pro sa prima volta, il suo buono d'induta sa diversità de' natura e stabilita desa visica aristotelica e mantenni da dedotta sa filosofia desa etate de' Meso, intreso scorposo chisunincheiluo subralunarese e so scorposo sublunarese. Amboso sono costituitoso desa mattessi materia. I su ammitidi e defensa da vincasa sa possibilità desa pluralità desa solmundoso, sa Guglielmo implica da sa possibilità desa infinitu. In sinfinitu, su centru pote d'essere intotue comente sa dannare in suo renascimento. Sa sintuizionese fisica sa de'Occam costituini su punto de' partenzia desa meccanica e desa astronomia moderna. Intreso schisigini Occam, ammentamoso Giovanni Buridano, su Guglielmo considera sa fisica comente uniscenzia empirica. A esso venite attribuiti su merito di avere intuito su principio di inerzia in sa teoria des impetus, formulata a proposito del suo movimento desos proiettilese. Sa fisica aristotelica ammittia da imbezzese su principio che uno corpusu debote emmovere un aterus solo promedio de uno contatto. Già Iocam haia da contrastato questo principio aristotelico con s'esempio desa vrizza o proiettile a sugale bene di comunicata una impellida che sa vrizza o proiettile che conserva da sena che su corpusu o che bi la comunicatu lo accompagnate in sa traiettoria sua. Aterrettanto, l'importo è questa opera di Nicola d'Oresme in suo domenio della matematica in cui anticipa Galilei e Descartes. A questa matessima nera del Galileo e Vesalio è stato impegnato in questa battaglia contro questa autorità filosofica e soprededotto contro questa tradizione scolastica. La miglietta è stata attenta in considerazione in sedate di mesi e è stata studiata in tutte le università. Questa opera di Galeno ed è il fisiologo arabo e ebreo è stata studiata con interesse umano, ma in questa visione gerarchica di questa cosa, propria di questa mentalità medievale, la miglietta, essendo la scienza di questa carena non tenia la dignità massima in l'ensiclopedia di questa scienza e la proietta, secondo la concezione medievale, la cosa spirituale è una superiore e la materiae. Con Vesalio, l'anatomia diventa una scienza empirica uguale a questa attesa. Amolo Biduo è qualche aspetto di importo. Prosubi Bertocca di questo sviluppo di scienza. In questo corso di questa puntata ciò di seguire abbiamo una maniera di trattare i mezzi sui quali alcuni argomenti e rischiare altre curiosità. In questo caso, vi ringrazio per la prossima puntata. Adios. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.